Sono stati svelati a vasto nella splendida cornice dei giardini napoletani di Palazzo D'Avalos i nomi delle imprese under 40 che hanno vinto l'Oscar Green Abruzzo, la selezione regionale del concorso nazionale sull'innovazione in agricoltura promosso da coldiretti giovani impresa, premiati gli imprenditori che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all'ogro alimentare regionale. Sei statuette per la prima volta alla menzione speciale all'agri-influencer che è riuscito a comunicare meglio il legame tra agroalimentare e territorio, come conferma il segretario nazionale di coldiretti giovani impresa Stefano Leoporati. Abbiamo rivisitato il formato di Oscar Green, abbiamo messo delle nuove categorie, poi partendo da questa, quella degli agri-influencer, cioè coloro che portano avanti anche quelle che sono le attività, riescono a comunicare che cos'è l'agricoltura. Fatta di tanti giovani che sono sul territorio e che sull'agricoltura fanno un progetto di vita. Ad aggiudicarsi il premio lo chef Davide Nanni che con le sue dirette Instagram ha promosso delle ricette wild. È un premio nuovo anche per me, quando mi hanno chiamato ho accettato volentieri questo invito e sono contento di aver vinto questo premio. Una giornata di festa condotta sul palco da Cara Di Michele, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo e che ha voluto rimarcare come i giovani si stanno avvicinando al mondo dell'agricoltura e le difficoltà che spesso incontrano. In questo ultimo anno si è osservata una volontà da parte dei giovani di entrare in questo mondo, ma non nascondo comunque le difficoltà di questo settore, quella ad esempio l'accesso al credito, la burocrazia. Quindi è chiaro che ancora di più il ruolo del giovane deve entrare a far parte del mondo dell'agricoltura per valorizzare tutto quello che noi abbiamo e perché comunque è un mondo che ha bisogno di idee fresche, di idee nuove che soli i giovani possono dare.